Parliamo adesso di calcio e anche di mercato con un grande esperto come Furio Valcareggi. Ciao Furio, buonasera. Buongiorno Lorenzo, buonasera, buonasera, scusa se io scambio il pomeriggio con la mattina uguale per me. Sono sempre in casa prigioniero e pauroso. È giusto, giusto avere qualche timore. Copiatemi, copiatemi. Giusto, giusto, giusto il tuo messaggio. Parliamo di calcio allora e ti chiedo, a prodotto del mercato, se fa bene, secondo te Conte ad insistere per avere Paredes, che sembra essere proprio un suo pallino. Eh sai, Conte ha i gusti da via Tornabuoni, lui gli piace la roba bella e quindi, e quindi certo, certo. Ma non sono mai tanti i calciatori, guarda, sono troppi a cento, guarda, non sono mai tanti, va bene così. Quindi se possono, avranno disagio nello spogliatoio, però Conte è abituato a tenere fuori giocatori importanti o anche importantissimi. Quindi certo che fa bene a prenderlo. Ma a tuo parere la rosa dell'Inter è la più forte del campionato oppure, come dice Bergomi, ce ne sono altre migliori? Bergomi, forse è più raffinato di me, però Bergomi da ex interista… Ti chiamano magari qualche operatore di mercato, qualche direttore sportivo. Giovanni Galli, Giovanni Galli. E ora fra l'altro, insomma… E quindi ti dico, quando il quarto cambio, il quinto cambio, il time out è na ingolam, vuol dire che la… Insomma, siamo messi bene, quindi però per vincere devi assolutamente concorrere con gente che ha delle panchine importanti come quella dell'Inter. Forse il Milan è un pochino più dietro, forse il Napoli, ma la Juventus, ma la Juventus… Non ti danno tregua al telefono, perché… Sono in diretta, ti chiamo io. Giustamente, sei ricercatissimo. Però ecco, cambiando leggermente argomento, ti chiedo anche che cosa pensi della vicenda Milik e se a tuo parere il polacco rimarrà al Napoli fino alla fine della stagione andando a scadenza e quindi creandosi magari anche proprio delle difficoltà a se stesso, perché poi dovrebbe rinunciare anche agli europei, probabilmente. Io sono un procuratore che non sono molto curioso, però ho i miei contatti, ho i miei contatti importanti e questo è un segreto e una prerogativa che appartiene a noi vecchi procuratori, che io chiamo gli addetti ai lavori e a me qualcosa dicono. Vedo che questi ragazzini che iniziano oggi hanno delle difficoltà enormi, enormi, enormi. Questo è un altro problema. Milik era già della Juventus. Milik era già della Juventus, avrebbe detto no a qualsiasi proposta che il Napoli li potesse fare, perché aveva già l'accordo con la Juventus. Non è andato come Cerotto, la Juve ha preso Morata. Ha preso Morata, se no aveva già Milik. Quindi Milik, ora non so se la Juve lo aspetta, non so se Morata sta facendo sfrescendi, non lo so, però Milik se ha una squadra, la Fiorentina è un sogno, non verrà mai qua, non verrà mai qua. L'europeo? Ma Milik, essendoci Lewandowski, a Milik di fare l'europeo con la Polonia di fronte a uno stipendio da 7 milioni netti più bonus, forse preferisce i 7 milioni netti senza fare l'europeo e andarci da giugno, va nella nuova squadra. Quindi Milik è un giocatore che il Napoli non usa più, non è più sul mercato e quindi ora Milik è proprietario di se stesso e ha raggiunto l'obiettivo. E la Juventus quindi secondo te alla fine quale attaccante prenderà in questo mercato di gennaio? Visto che comunque sono stati fatti tanti nomi, non soltanto quello di Milik, si è parlato di Giroud, di Pellè, tanto per fare anche il nome di un altro attaccante. Pellè, Pellè, ora che qualcuno ci ride sopra, ma Pellè lo metti là in mezzo a quella roba, a quelle grandinate di cross e non lo vedo male. Pellè è stato un bel centravanti, ha giocato il nazionale, ha fatto l'europeo, sbagliato il rigore e se no si vince l'europeo e lui era il centravanti insieme a Zaza di quella squadra. Quindi qualcuno sento che sorride, no, qui a Pellè si mettono a risa. Non è proprio così, Pellè è un gran centravanti che se è rifornito finalizza e tanto. Alla Juve tutti corrono, quindi basta che schiocca le dita Fabio, Paratici e chi hanno scelto arriva. Che batte anche la concorrenza dell'Inter, perché anche l'Inter credo abbia di una punta, perché Lukaku e Lautaro, fantastico Lautaro, però che non gli venga mai un raffreddore, perché se no sì, hanno Pinamonti, va bene, però ragazzi... No, no, però lo stanno cercando, lo stanno cercando un'altra scelta. Lo stanno cercando, quindi ecco, sarà una lotta fra loro due. Allora, chi va, va. Chi va, va, sono tutte e due, rimangono fortissime. Rimangono fortissime. Ma la tua favorita qual è, per lo scudetto? L'Inter. La mia favorita è l'Inter. La mia favorita è l'Inter, anche se ho visto una Juve con il Milan pazzescamente forte. Poi c'è stata la Juve con la Fiorentina, che la Fiorentina ha vinto bene, perché qui sembra che noi si sia fatto... Invece no. Però la Juventus, se Chiesa è cresciuta in quella maniera, cioè Ronaldo ha cileccato e c'è Chiesa. Cioè, voglio dire, la Juve è una lotta fra di loro. L'handicap, che ora è pesante. L'handicap che ora è pesante. È che, come vedi, ci sono dei risultati, perché questo Covid ha cambiato il mondo. Il Covid non esiste. Senza pubblico un giocatore può sbagliare a quattro passaggi e nessuno dice niente. L'arbitro arbitra e fuma una sigaretta, perché se un giocatore reclama, lo chiama, vieni qua, stai zitto perché non ti butto fuori, hai fatto fallite, vai via e non mi venire più intorno. E nessuno supporta con i fischi il calciatore tuo che protesta. Quindi, poi oltretutto c'hanno il VAR. Quindi, tanto è vero, questi risultati che allo 92 più 3 cambiano, è qualcosa che non torna. Tanto è vero che io, che sono vecchio, il Sassuolo primo classifico non l'avevo mai visto. C'è qualcosa che ha budellato tutto qua, ha intorcinato tutto, però alla lunga, alla lunga, alla lunga, Juve e Inter vincano il campionato. Zaccagna, quello del Verona, eh sì, ma il Verona lo dà, perché ieri ho sentito opinionisti anche a Firenze. E' la prossima stagione, naturalmente. E' certo, che qui a Firenze si cerca di prendere il Papu, no? E qualcuno ha detto, ma non si può, bisogna progettare la squadra per il futuro. A gennaio vuoi progettare la squadra per il futuro, a gennaio deve prendere dei cerotti. Devi prendere delle cose che tappano la ferita e basta. Il programma lo può fare a gennaio. Papu Gomez lo vado a prendere io, lo vado a prendere. Dice, e il Ribery? E no, non lo so, Ribery, sarà un problema fra Ribery e Papu Gomez. Non ho paura dei giocatori forti, ho paura a non averli, non ad averli. Quindi dico, Zaccagna, non so se il Verona glielo dà a fine campionato. Sì, certo. Perfetto, perfetto. E' un bel giocatore. Cioè, giocare nel Verona è più facile, giocare dove andrà è molto più difficile, però si vede subito, sai. Le prove sono tutte lì, non si vedono subito. E comunque, realisticamente, il Papu Gomez, secondo te, dove andrà? All'Inter? Non so, è lui che decide. Lui ha tre o quattro giacche di cashmere nel suo armadio. E sceglierà lui. Se metto questa, questa o questa, dove va, casca in piedi. Firenze, l'unica cosa di Firenze è che ci si dovrebbe parlare, ci si dovrebbe parlare io un pochino, lui, lo pomico a dei livelli sfrenati e poi mi dice di no anche a me, perché con le alternative che ha Firenze non concorre. Firenze concorre come il città, come simpatia, certo, non per la lassifica, certo. Per i programmi sì, per i programmi può fare delle cose serie, perché gli americani sappi che sono persone che vogliono spendere per avere. Quindi gli americani hanno in testa di fare una squadra competitiva. È il secondo anno, è il primo mercato e mezzo che fanno. E diamoli tempo e vedrai che fra un anno e mezzo sicuramente non sbagliano più il mercato. Senti, invece la Roma quanto potrà lottare per lo scudetto? Non lo so, non lo so Lorenzo, non so cosa farà. Il Zeco è bravo, l'altro è bravo, Micaetari è bravo. E sono tutti bravi, sono tutti bravi questi ragazzotti qua, delle tue bravi. Ora vediamo, vediamo, c'è Spinazzola, è devastante. Mi piaceva da quando era la Juventus, ragazzino, sto Spinazzola. Storia, è vecchio, come il calciatore è vecchissimo. E io lo seguivo e mi piaceva da morire sto Spinazzola che non lo prendevi mai. Quindi, da Bergamo, allora ti dico, la Roma è candidata ma non a vincere. Lotterà per la Champions. Lotterà per la Champions. E comunque sarebbe già un bel risultato rispetto all'anno scorso, rispetto agli ultimi anni, perché potrebbe rientrare tra le prime quattro. Furio, grazie per il tuo contributo. Ci sentiamo prossimamente. Grazie a te.